La nostra chiave interna di lettura, secondo me, è quella che abbiamo fatto, non dico benissimo, ma neanche male. Non è da buttare via questo girone d'andata, secondo me, considerando che all'inizio abbiamo fatto magari un po' di fatica, perché come sappiamo c'era la squadra nuova, non ci conoscevamo, abbiamo avuto un po' di problemi, ma ci siamo messi a posto velocemente e abbiamo fatto una buona fase centrale. Adesso, anche se mancano da un po' i tre punti, abbiamo fatto, secondo me, delle buone prestazioni. Sulla carta ci dice che le prime cinque hanno preso il via e stanno facendo veramente tanti punti e noi dobbiamo provare in tutti i modi a stare dietro a queste grandi squadre. I play-off, ovviamente, noi dobbiamo fare il massimo che hanno le nostre possibilità a fare, però il play-off credo che sia un obiettivo fattibile. Noi in tutte le partite proviamo a portare i più punti possibili a casa. Da cambiare non sta a me dire se c'è qualcosa da cambiare o dove dobbiamo cambiare qualcosa, perché secondo me è nel compito del mister dire certe cose. Però, secondo me, impegnandoci al massimo possiamo ottenere risultati importanti in queste ultime due partite, l'ultima di andate prima di ritorno, prima della sosta. Anche se, come ha detto lei, sono partite sulla carta difficili, perché sono squadre rinomate. Abbiamo lavorato, secondo me, molto bene, ma nel complessivo, non solo in linea difensiva, ma tutta la squadra, che ha fatto sì che a noi difensori di ruolo non siano arrivati tutti questi pericoli. Sono molto felice per questo fatto che ho giocato tutte le partite da titolare per ora. Ho giocato sicuramente partite buone e alcune meno buone, però felice della fiducia che il mister mi sta dando. Mentalmente sicuramente non è facilissimo da accettare, però stiamo cercando di lavorare per raggiungere questi tre punti, che mancano appunto da parecchio. Però, secondo me, se continuiamo così, lavorando settimana dopo settimana, con impegno, come facciamo durante la settimana, riusciamo a raggiungere questo obiettivo importante.